partiti cavalli della quarta corsa perde qualcosina in partenza la principala ma comunque si porta a contatto parte bene blaugrana che è il leader accompagnato all'esterno da brownies altro che ha colto una buona partenza in terza c'è la giubba blu che è quella della libertà per cedere stolen art poi all'interno la giubba bianca e verde che è quella di pontier poi in sesta posizione lungo lo steccato troviamo la principala che è la favorita che all'esterno balsamina e chiude in coda il gruppo fergiana così si procede quando i cavalli sono già all'imbocco della dirittura d'arrivo con brownies che ha rilevato blaugrana al comando in seconda posizione in seconda corsia troviamo subito la libertà poi in terza in quarta posizione all'interno c'è pontier in quarta troviamo la principala con la giubba bianca che deve trovare lo spazio stessa cosa per stolen art che galoppa al centro la pista insieme a balsamina e fergiana che si concentrano invece sullo steccato opposto brownies è leggero vantaggio e tenta la fuga pontier che comunque lo bracca ci prova all'interno anche blograna ma dall'esterno arrivano la libertà stolen art la principala mentre balsamina è rimasta lì sul passo la principala che ci prova ma in questo momento la libertà leggero vantaggio attaccato all'interno dalla stessa la principala all'esterno da stolen art con la libertà che resiste e sigla rispetto a stolen art è la principala bel finale serratissimo con tre cavalli protagonisti in particolare tre femmine a dir la verità con la libertà che dovrebbe averla spuntata ma rivediamolo stretto per capirlo ancora meglio sembrerebbe così ma bisogna attendere il verdetto del giudice d'arrivo dovrebbe essere 6 4 2 l'ordine d'arrivo fucioso numerico della quarta corsa qualora avesse vinto la libertà avrebbe una quota di 4,18 con antonio fresu in selle il training di david ucci colori di francesco mura ma forte all'esterno c'è stolen art con peper jacovic per massimiliano muzzi e i colori di adriano muzzi e sarebbe un rarrivo un pochino più a sorpresa attendiamo il verdetto del giudice d'arrivo grazie a tutti